buongiorno ragazzi ora vi faccio vedere perché questo tipo di verifica che sto facendo mi è stata molto utile seguitemi in questo nuovo video e lo scoprirete un mio amico ha questo avvitatore che non funziona probabilmente la batteria che non non si carica più allora è la prima volta che intervengo sulle batterie degli avvitatori e non essendo pratico ho iniziato a fare delle prove quindi ho messo la batteria sotto carica e con il multimetro digitale ho visto i valori ho misurato i valori diciamo di tensione come vedete invece il valore istituito con la batteria riposo è molto più basso siamo intorno ai 16 volts contro i 20 che dovrebbe erogare la batteria ora quindi provvedo ad aprire la batteria svitando semplicemente le quattro viti che sono fissate sul fondo e apriamola e vediamo che cosa si può fare ecco all'interno ho trovato cinque batterie 18 6 50 da 3,7 volt e da 1500 milliampere rifacendo la misurazione qui sull'intero pacco batterie il valore è 16 volte all'incirca ora provvede invece a fare la misurazione singolarmente per ogni batteria questo filetto nero invece che avete visto secondo me dovrebbe essere il sensore di surriscaldamento che manda in protezione la batteria utilizza il multimetro può capitare di avere un valore negativo ma questo semplicemente perché i puntali sono invertiti quindi non è nessun problema se compare solo il meno davanti ma il valore lo stesso ora che ho capito da questa prima verifica ho capito che questa batteria qui fra le cinque è l'unica che ha un valore molto più basso dei 3,7 volte e c'è un valore che oscilla in continuazione mentre le altre hanno restituito un valore stabile e vicino a 3,7 volte infatti hanno restituito 3,9 e 3,8 volte alla luce di questa verifica penso di poter tranquillamente sostituire questa batteria che è quella che è l'unica praticamente che è difforme dalle altre con un po di pazienza provvedo a staccare i contatti della batteria questi sono saldati con una saldatrice appunti e ci vuole un pochettino di tempo bisogna fare un po di attenzione e soprattutto mi raccomando evitate cortocircuiti perché le batterie potrebbero esplodere dopo aver tolto la batteria che non andava bene la vado a sostituire con un'altra della stessa tipologia quindi stesso voltaggio e stesso amperaggio questo proposito vi consiglio di adottare una soluzione del genere con evitare corti circuiti accidentali l'ideale sarebbe saldarla con una saldatrice appunti ma io non ce l'ho e utilizzo il classico saldatore a stagno per terminare il lavoro e inserisco la batteria ma l'avvitatore non funziona lo stesso la verifica col multimetro allora rilevo che con la batteria sottocarica segna 22 44 volte senza il cavo di ricarica adesso il valore è aumentato a 19 19 76 però la batteria continua a non funzionare come non ho dimestichezza in elettronica qui mi viene il lampo di genio e quindi utilizzo questo motorino per andare a verificare ogni singola batteria e mi accorgo che l'ultima batteria quella che originariamente mi dava un valore di 3,8 volte effettivamente non fa muovere il motorino mentre tutte le altre si praticamente come avete visto quell'ultima batteria che comunque mi restituì originariamente 3,7 volte non fa partire il motorino non alimenta il motorino e si comporta alla stregua di quella che ho sostituito praticamente ecco ora sostituito anche l'altra batteria e vado a fare la verifica col multimetro quindi che cosa c'è di diverso che adesso i due led rosso e verde non lampeggiano più simultaneamente ma rimane fisso quello rosso e il valore di ricarica è 20 volt sottocarica e diciamo dai 19 ai 20 senza diciamo il cavo di ricarica dopo aver mantenuto la batteria sottocarica per un po di tempo finalmente si è spento il led rosso per accendersi quello verde segno che la batteria sia ricaricata non mi resta che inserirla nell'avvitatore e verificare se finalmente abbiamo risolto il problema questo è uno dei momenti da wow per chi amante fa da te qui c'è una cultura incredibile ragazzi il video sta per finire se vi è piaciuto scaricate però perché vi può ritornare utile condividetelo con i vostri amici e lasciatemi un like e per chi non è iscritto iscrivetevi al canale un saluto a tutti ci vediamo al prossimo video grazie